Ho fatto un post su Facebook, non mi aspettavo assolutamente una risposta del genere perché io al massimo cercavo di arrivare a 4 bambole, ma a 22-23 non ci avrei mai pensato, infatti sono arrivate 23 bambole più 24-25 cani e gatti. Una raccolta fondi inaspettata così Francesca Forconi, ragazza di San Severino Marche, molto attiva nell'aiutare gli altri nel post terremoto, ha voluto festeggiare il suo compleanno. In 20 giorni ha raccolto circa 3.000 euro arrivati da ogni parte d'Italia. Da nord a sud veramente sono stati eccezionali e non pensavo che dopo tre anni le persone ancora fossero disposte ad aiutarci, anche che è sulla da terremoto insomma sta cosa, però sono state meravigliose veramente. Oltre ai donatori la Forconi ha dedicato un pensiero a Giovanna scomparsa, ma prima sfollata di Pievetorina che ha conosciuto proprio nella struttura di Gaiole e poi ai suoi collaboratori più stretti. Ringrazio la Ollus di Carmestella, la terra trema al cuore no, perché senza di lei non potevo raccogliere denaro. Ringrazio i miei mitici amici del terremoto, sono il pediatra Salvatore Stasolla, Serena Grigoletto, Letizia Bellecchia e Ornella Ciacconi che è la mia macchina da guerra. Queste copertine qui ci sono state donate dal gruppo Le nostre mani salvano i bimbi e sono loro supportate dalla MAM, un'altra associazione, comunque loro fanno tantissime cose, le piazze addorbate con tutte queste copertine, ci sono tante signore che fanno queste copertine e tutto ricavato si dà in beneficenza. La giornata di Gaiole è stata una festa soprattutto perché ha riunito nella casa di riposo Chierichetti 16 strutture dell'entroterra e quindi un bel progetto di rete. Siamo veramente contenti di accoglierli qui e di ringraziare Francesca e tutti coloro che l'hanno aiutata offrendo quello che hanno potuto. La nostra struttura ha un pieno regime accoglie 42 anziani, di questi 42 almeno 15 sono affetti da Alzheimer riconosciuti proprio dalla Commissione degli Invalidi Civili. Noi da tempo stiamo facendo delle cose per aumentare la qualità dei servizi nelle strutture residenziali, proprio oggi abbiamo avuto, oggi e ieri, due comitati dei sindaci dei miei tre ambiti per creare in tutto il territorio sei nuclei specializzati per la demenza. Quindi stiamo lavorando, su questo ci serve impegno e continuità ma riusciremo con il tempo a avere servizi più qualificati. Presente anche Susanna Cipollari che nel ringraziare i donatori ha ammonito i rappresentanti delle strutture presenti sull'uso indiscriminato delle bambole e dei peluche. La terapia non è una terapia per tutti. Per peso, per i tratti che queste bambole hanno, fanno sì che le persone con demenza di grado grave o moderato le riconoscono proprio come neonati e quindi favorisce tutto il maternace, tutto l'accudimento e l'attaccamento.